Ben ritrovati per un nuovo appuntamento con l'informazione di TRMH24. I funzionari del comitato di gestione inviato dal Viminale hanno incontrato la neosindaca di Foggia alla riunione, alla presenza del prefetto, per riavviare il percorso post-commissariamento. Al centro dell'incontro ci sono i progetti di riqualificazione urbana rientranti nel PNRR. Il comitato di sostegno e monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie nominate nei comuni sciolti per infiltrazioni mafiose e dei comuni riportati a gestione ordinaria ha fatto visita al comune di Foggia. Mapperemo, proietteremo alla commissione, ai nostri ospiti odierni, tutte le azioni che sono state messe in atto. In particolare per la rigenerazione urbana, con sei progetti che riguardano vari contesti, vari quartieri della città, per un importo di circa 60 milioni di euro. E ci tengo a dire che il comune di Foggia consegue anche delle premialità su alcuni progetti, perché per la progettazione virtuosa, la tempistica virtuosa, che ha portato per alcune misure a un incremento del budget iniziale. Il comune di Foggia è appena tornato alla normalità gestionale con l'elezione della nuova sindaca. La riqualificazione urbana, insieme ai progetti di inclusione, di potenziamento e di incisione sociale, sono tra i ponti più importanti della sfida, alla quale sono chiamati nuovi amministratori. Foggia ricorda le due famiglie vittime del crollo di Via delle Frasche. Il 20 novembre del 2005 una fuga di gas fece esplodere una palazzina del quartiere di Borgo Croci. Il 20 novembre del 2004 Foggia fu svegliata nella notte dal boato di Via delle Frasche, nel popolare quartiere di Borgo Croci. Alle 3.18 una fuga di gas provocò l'esplosione del crollo di una palazzina. In otto persero la vita. Dopo cinque anni si riaffacciò il dramma di Via Legiotto. Bisogna usare massima perizia e la diligenza del buon padre di famiglia, che è un principio anche richiamato da tutta la codicistica italiana. Ovviamente le nuove edificazioni si ispirano a norme proprio catenaccio, da cui non si può più sfuggire. La campana rintocca otto volte durante la cerimonia di commemorazione in ricordo delle due famiglie vittime del crollo. Crollo che aprì la riflessione sugli interventi urgenti in molte zone di Foggia rimasti un nulla di fatto. Cercheremo di dare una tempistica accettabile per la cittadinanza tutta. Cercheremo di sfruttare tutte le progettazioni per la rigenerazione urbana, per la riqualificazione di ogni contesto e di ogni settore. Mi rendo conto e oggi sono qui con voi in piena sofferenza. Dalla regione Basilicata 200 mila euro per contrastare la diffusione dei cinghiali selvatici. Ammontano a 200 mila euro le risorse che il Dipartimento all'Agricoltura della regione Basilicata ha stanziato in favore dei comuni lucani per permettere l'acquisto di gabbie, chiusini e pigbrig necessari per contrastare la diffusione dei cinghiali selvatici. E' questo l'obiettivo di un avviso pubblico che è stato presentato nella sede dell'assessorato a Potenza. La misura rientra in una serie di iniziative che erano già state messe in campo. Tra queste, nel periodo estivo, il Dipartimento aveva stanziato 20 mila euro per ognuno dei cinque ambiti territoriali di caccia, al fine di acquistare celle frigorifere per permettere la conservazione della cacciagione. Successivamente era stato presentato un bando che verrà ripubblicato e aggiornato per la creazione di una vera e propria filiera del cinghiale lucano. La piaga dei cinghiali selvatici in Basilicata sta raggiungendo numeri che assumono i connotati di una vera e propria emergenza. Basti pensare che il piano di abbattimento straordinario stanziato dal Commissario nazionale per la peste suina aveva previsto l'abbattimento in regione di 27 mila capi, lo stesso numero previsto per la regione Lombardia. Le gabbie che sono l'unico strumento che si può mettere in campo per combattere il problema dei cinghiali all'interno delle aree urbane, dove non si può sparare. È un bando che chiuderà il 10 dicembre con un'assegnazione di punteggi molto semplici con il quale riteniamo che già per gennaio di poter dare la possibilità ai comuni di acquistare le gabbie. La Basilicata è oggettivamente strapiena di aree protette, dove per decenni i cinghiali si sono riprodotti e ovviamente ci sono delle condizioni oggi in Basilicata, circa 100.000 cinghiali, mentre in Valle d'Aosta ce ne sono 1.500, sono condizioni straordinarie per le quali dobbiamo mettere in campo delle soluzioni straordinarie. Questa è una delle tante, ne metteremo in campo altre. Stiamo lavorando con i selecontrollori anche all'interno dei parchi per cercare di diminuire il più possibile il numero dei cinghiali. Educazione all'imprenditorialità e spirito di impresa, questi i temi oggetto della formazione. Incontro conclusivo a Potenza. Si è tenuto nel piccolo teatro Principe di Piemonte a Potenza l'incontro conclusivo del progetto dedicato alle scuole destinato all'educazione e all'imprenditorialità e spirito di impresa inserito nel POFSE della regione Basilicata. Il piano si è posto l'obiettivo di formare gli studenti degli ultimi anni degli istituti secondari di secondo grado. La scelta dell'argomento e oggetto della formazione è stato il frutto di una stretta collaborazione tra l'autorità di gestione del POFSE Basilicata, la consulta studentesca regionale e l'ufficio scolastico regionale per la regione. Un intervento che è avvenuto in corrispondenza con l'anno europeo delle competenze un appuntamento che mira ad abbinare le aspirazioni e le competenze delle persone alle opportunità offerte dal mercato del lavoro. Le attività formative sono state incentrate sulle competenze idonee per fornire ai ragazzi un bagaglio di preparazione tale da poter conoscere le dinamiche inerenti alla pianificazione aziendale dalla strutturazione di un'azienda al marketing attraverso uno scambio di esperienze avvenuto tramite gruppi di lavoro, speech e presentazione di elaborati. Si dà la possibilità ai giovani di capire anche quanto è importante non aspettare soltanto il posto di lavoro ma creare anche delle imprese e quindi fare autoimprese. Noi a tal proposito nel piano strategico della regione Basilicata stiamo per lanciare una misura molto importante che chiameremo Resta in Basilicata con un finanziamento di 25 milioni di euro che darà una serie di agevolazioni a chi vuole fare imprese qui sul nostro territorio. L'orientamento all'impresa si tratta di un percorso che viene svolto all'interno degli istituti scolastici di secondo grado che ha interessato quattro istituti della Basilicata in particolare Matera, Potenza, Policoro e Melfi con 462 ragazzi che hanno seguito appunto questa iniziativa. Nella giornata internazionale dedicata ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza i bambini di Bari giocano a coprogettare la città. Swish! 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 Immaginare la città del futuro a partire da un suo prototipo di legno luminoso e dai tratti giocosi come quelli di un cartoon posizionarne idealmente i quartieri qualcuno vero altri inventati sul momento sono i sogni che ridisegnano l'urbanistica ma soprattutto la visione di una città e così nella giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza a Bari nell'urban center messo a disposizione dall'assessorato al welfare i bambini non sono oggetto di incontri e dibattiti e parole degli adulti ma protagonisti di un nuovo processo di coprogettazione che parte dal gioco. Come si fa a fare coprogettazione con i più piccoli, con gli adolescenti e addirittura con i bambini? Il coinvolgimento dei più piccoli la creazione di uno spazio d'ascolto e la traduzione dell'idea e dei bisogni dei bambini in poi azioni. Lo faremo nei prossimi giorni con adolescenti, giovani e universitari al fine di avviare a partire da gennaio l'Hub che sarà appunto un nuovo servizio polifunzionale aperto al protagonismo dei giovani e degli adolescenti perché mai come in questo momento l'ascolto, l'espressione, il coinvolgimento dei ragazzi è fondamentale. Un nuovo modo per pensare gli spazi e le attività dedicate a bambini e ragazzi dunque e per cui la rivoluzione copernicana consiste nel mettere al centro l'ascolto dei loro desideri, di necessità e prospettive. Quali sono i desideri che stanno emergendo da parte proprio dei bambini? Un forte bisogno di incontrarsi, di luoghi d'incontro, di luoghi d'incontro anche fra bambini provenienti da ogni parte del mondo. Infatti oggi nell'ambito dei cento eventi per i diritti dei bambini che abbiamo creato abbiamo scelto proprio il tema della pace. E dunque bocche chiuse, occhi e orecchie aperte per ascoltare storie che vengono da lontano e che non sono mai state così vicine. Nascoltura! Nascoltura! E in italiano? Squash! 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 Al via Matera Ruzzin, la bossa internazionale sul turismo delle radici. I viaggi dei turisti delle origini o di ritorno costituiscono un'importante potenzialità di sviluppo per i territori e per la programmazione degli operatori turistici italiani e internazionali. In vista del 2024, anno delle radici italiane, torna per il secondo anno a Matera Ruzzin. La due giorni, appuntamento internazionale di riferimento per il turismo delle origini, è organizzata da PT Basilicata in collaborazione con Enit e con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale. L'obiettivo è quello di sostenere l'offerta turistica legata al turismo delle radici, da un lato sensibilizzando i comuni e i territori interessati, dall'altro promuovendo un programma di approfondimenti tematici, formazione, interscambio e networking tra i professionisti del settore. È un'occasione per poter incontrare tutti gli operatori del turismo che vengono non solo dall'Italia, quest'anno addirittura abbiamo chi viene dall'Australia, quindi abbiamo il mondo turistico dell'Europa e soprattutto abbiamo delle interlocuzioni che faranno sì che il nostro territorio possa essere conosciuto chiaramente non solo in Italia ma anche all'estero. Il forum di questa mattina ha focalizzato l'attenzione sui rapporti, sulle opportunità che possono nascere per i nostri borghi e per le aree interne a partire dalla valorizzazione del turismo delle radici. Parliamo di opportunità concrete, noi Lucani abbiamo la possibilità di portare il caso Bandiera, il precursore Francis Forcopola, ma ci interessa molto lavorare anche alla possibilità di attrarre investimenti, di creare contatti e connessioni con le nostre imprese, non solo per il mondo del turismo ma per tutte le filiere che possono avvantaggiarsi dei rapporti con l'estero. È tutto, grazie per averci seguito. Arrivederci.